Colpito da due focolai nonostante sia un ospedale no covid, a Santa Maria della Misericordia di Urbino si sta fronteggiando l'emergenza coronavirus, due i reparti coinvolti e chiusi, reanimazione e cardiologia. Elisabetta Foschi, assessore comunale alla sanità, ha seguito passo passo l'evolversi della vicenda e oggi ci ha spiegato la situazione critica ma in via di miglioramento. Sono scesi a 9 i pazienti contagiati perché 6 sono stati trasferiti mentre gli operatori sanitari in isolamento domiciliare sono 24. Poi abbiamo raggiunto quella soglia critica e la chiusura dei due reparti comporta una difficoltà notevole perché l'ospedale di Urbino deve rispondere a patologie no covid di un'intera o entroterra e va da sé che non avere la cardiologia e la reanimazione anche per le altre patologie crea un problema non indifferente. Sono garantite le urgenze ma non gli interventi programmati al momento. Per risolvere il problema è sceso in campo anche l'assessore regionale Filippo Saltamartini che non solo si è attivato sin da subito per il trasferimento dei pazienti positivi ma attraverso il Gores ha chiesto rinforze alla protezione civile nazionale per l'invio di medici cardiologi, anestesisti e internisti. Infatti l'obiettivo principale è quello di garantire la prosecuzione delle attività cliniche in quello che è l'unico ospedale no covid della provincia di Pesore Urbino. Auspicherei in questo senso anche maggiore collaborazione tra l'ospedale di Urbino che è Asur e magari Marche Nord che ha una sua autonomia però Urbino non si è mai sottratta al sostegno quando Marche Nord va in difficoltà. Ecco l'ospedale di Urbino, quando parliamo di ospedale di Urbino parliamo di tutta la popolazione dell'entroterra se può essere dato aiuto anche in quel senso sarebbe positivo, comunque l'ospedale si sta organizzando per riaprire le parti entro la fine di questa settimana, massimo all'inizio della prossima. State pensando anche di attivare un numero di telefono dedicato alle segnalazioni, di che cosa si tratta? Sì, a parte i pazienti in ospedale ci sono molte persone positive a casa e a differenza di marzo diciamo che la patologia viene affrontata prima e viene affrontata a domicilio tramite le USCA o le visite domiciliari dei medici di medicina generale, il numero lo abbiamo pensato perché abbiamo avuto segnalazioni di persone a casa malate con i sintomi che magari non hanno avuto la visita del medico o dell'USCA. prima riusciamo a risolvere queste situazioni a casa, prima risolviamo il problema dell'ospedale il numero serve per segnalare se ci sono disfunzioni domiciliari.